I parcheggi a pagamento in centro non torneranno, parola dell'assessore alla mobilità del comune dell'Aquila Carla Mannetti che toglie ogni dubbio in questo senso, soprattutto in relazione ai dubbi sollevati dai sindacati e relativamente alla difficile situazione lavorativa dei dipendenti della MP Parcheggi. Ci saranno delle zone con parcheggi a pagamento, questo sì, afferma la Mannetti, ma non in centro dove non c'è ancora una situazione normale e ci saranno fasce orarie con un prezzo cosiddetto sociale. Noi lo abbiamo scritto nel programma e quindi intendiamo rispettare quanto promesso ai cittadini, i parcheggi in centro a pagamento non saranno ripristinati. Stiamo facendo una ricognizione di tutti i parcheggi in città perché ovviamente saranno individuate delle zone che però avranno sicuramente un costo orario cosiddetto sociale, cioè ci saranno delle formule diverse da quelle precedenti, cioè non ci sarà il parcheggio orario a 1,50 euro, ma stiamo pensando per esempio di parcheggio gratuito nelle prime due ore e poi delle fasce a pagamento ma sempre in periferia. È ovvio, fa sapere la Mannetti, che ci rioccuperemo della convenzione sospesa con l'MP e nostra intenzione è anche migliorare il terminal di Colle Maggio con degli investimenti. Anche noi ovviamente vogliamo salvaguardare i lavoratori ma neanche gravare sui cittadini aquilani. Altro punto importante è che stiamo rivitalizzando il megaparcheggio, quindi ci saranno investite delle somme del masterplan per renderlo più agibile e anche più accogliente e quindi la prima priorità è quella, rilanciare il megaparcheggio sempre con tariffe sociali, quindi abbonamenti annuali e mensili a tariffe molto basse. Questi sono i primi passi. Ovviamente i lavoratori pretendono il ripristino dei parcheggi a pagamento perché questa costituisce una fonte di entrata per l'MP che però ad oggi è ancora una convenzione sospesa con il Comune e noi stiamo proprio predisponendo e sarà approvata nei prossimi giorni una delibera ricognitiva di tutto quello che è stato fatto in questi anni per poi arrivare alla programmazione, chiamiamola strategica, del piano parcheggi della città negli anni futuri. Noi vogliamo salvaguardare i lavoratori però vogliamo tutelare anche i cittadini, gli aquilani, che hanno diritto a un'attenzione che credo fino adesso su questo argomento non gli è stata data. Quindi stiamo cercando di contemplare le due esigenze, abbiamo approvato il quadro strutturale del nuovo piano urbano di mobilità sostenibile e quindi vogliamo dare delle risposte sia ai lavoratori ma soprattutto ai cittadini.